ben ritrovati seconda parte di angoli siamo in compagnia di maria grazia portera area manager lombardia banca cesare ponti buonasera e ben ritrovata grazie buonasera a voi devo dire che ci ritroviamo dopo questa pausa estiva ci siamo lasciati a giugno parlando e dando un possibile scenario di una questione che era calda al momento ovvero l'ipotesi di un'uscita della gran bretagna dall'area euro oggi ci ritroviamo effettivamente l'ipotesi che avevamo cercato un po di scacciare si è avverata e allora tentiamo di fare un po il punto su quali saranno gli scenari in europa di questa decisione partirei proprio anche riassumendo no rifacendo un po anche il punto su che cosa significa questa uscita dall'area euro sì il 23 giugno il popolo inglese si è espresso a favore di un live cioè di lasciare la comunità euro l'unione europea quindi questo vuol dire non aderire più ai trattati economici europei al mercato di libero scambio la libera circolazione di persone merci quindi tutti quelli che sono i trattati economici il trattato di lisbona questo prevederà una uscita programmata con una revisione di tutti i trattati e con un avvio di trattative politiche tra lo stato appunto la gran bretagna e l'unione europea questo referendum ha colto devo dire i mercati assolutamente di sorpresa non ci si aspettava un esito referendario di questo genere e l'effetto poi si è visto si è visto in termini economici in termini finanziari perché i mercati in una giornata sono arrivati a perdere il 12 per cento la sterlina ha perso il 15 per cento insomma c'è stato è stata la profezia che non doveva avverarsi quindi si è visto proprio nei risultati dei primi giorni vediamo abbiamo preparato dei grafici in cui si nota quello che è l'incertezza politica e potete vedere com'è schizzato letteralmente proprio nel giorno successivo il famoso venerdì nero come sia schizzata l'indice che misura l'incertezza politica e così come anche nell'eurozona e così come anche nel secondo grafico si possono vedere gli effetti sia sui mercati sui vari indici sulla sterlina tutto quello che poi è stato sul decennale americano tutti i valori gli indici che monitoriamo e che dimostrano un andamento un effetto diciamo così sorpresa e un effetto shock sui mercati sono passate dieci settimane da quell'evento devo dire che nel frattempo un pochino la situazione è rientrata ecco gli indici si sono riposizionati la sterlina è vero che perde sempre un 10 per cento da inizio anno l'indice europeo ha recuperato l'indice inglese ha recuperato tutta la perdita insomma si è un pochino rinormalizzato questo effetto shock che abbiamo subito in una giornata ok quindi quali saranno poi anche le conseguenze diciamo proprio a lungo termine? sì le conseguenze sono tutte da poi da verificare adesso possiamo fare delle stime ma saranno poi tutte da verificare per come verranno trattate poi l'uscita della Gran Bretagna sicuramente si dovranno appunto rivedere i trattati e questo è un processo imprescindibile la Gran Bretagna ha fatto una scelta molto precisa e quindi l'Unione Europea anzi cerca di accelerare questo processo dall'altra parte ovviamente è molto più comodo diciamo così non lasciare il tempo necessario per adeguarsi per intraprendere anche azioni a sostegno dell'economia quello che sta avvenendo c'è chi stima ormai che i trattati non verranno modificati prima del 2020 quindi di fatto la Gran Bretagna non è uscita in questo momento quindi gli effetti non ci sono perché l'uscita non c'è stata tecnicamente inoltre tutte le previsioni più catastrofiche che erano state fatte sono state un pochino smentite dall'analisi della situazione attuale anche perché non si era tenuto conto di quello che le autorità inglesi avrebbero posto in essere la Bank of England ha subito tagliato i tassi in agosto li ha portati 1,025 allentamento monetario, acquisto dei titoli di Stato fino a 60 miliardi di acquisti sui titoli di Stato inglesi 10 miliardi messi a disposizione delle imprese con acquisto di bond corporate fino a 100 miliardi a disposizione delle banche per evitare che si riducano i prestiti o i mutui alle famiglie che cosa abbiamo visto? abbiamo visto un indebolimento della sterlina questo ha comportato sicuramente un po' di aumento di inflazione soprattutto nel paniere che riguarda le materie prime e la benzina, il petrolio quindi si è visto un effetto inflattivo ha comportato però anche un aumento delle vendite al dettaglio e un aumento dell'export l'economist dice che il consumatore inglese che va al grande magazzino non pensa al trattato di Lisbona i prezzi sono e così come i turisti stranieri, gli investitori stranieri vedono prezzi più convenienti e hanno comprato quindi le vendite sono salite l'export verso Stati Uniti e Cina è aumentato per cui non sono tutti effetti negativi fortunatamente però quali possono essere anche le conseguenze e le contromisure che possono essere adottate eventualmente dalle autorità britanniche? sì, contromisure che hanno posto subito in atto e che continueranno a fare fin tanto che non si discuterà di ritrattare i trattati economici quindi daremo più tempo alla Gran Bretagna se effettivamente si materializzerà nel 2020 un'uscita effettiva dalla Gran Bretagna per cui nel frattempo tutte queste contromisure economiche aiutano l'economia inglese a una ripresa o comunque a un mantenimento in una situazione di crescita e non a una recessione prospettata che magari a livello tecnico sul trimestre si potrebbe vedere ma con tutte queste contromisure effettivamente per il momento non l'abbiamo ancora vista quello che è certo che comunque ci aspettiamo è che la divisa continui a mantenersi debole quindi il consenso degli operatori si sposta tra 0,85 e 0,89 una mediana intorno a 0,86 quindi vuol dire una situazione più o meno simile a quella attuale con un'ancora possibilità di scivolamento di breve quindi più o meno gli effetti forse più grandi, più vistosi si sono visti bisognerà vedere appunto quali tempi da adesso in avanti e quali misure continueranno a porre in atto certamente l'uscita dai trattati ha dei risvolti anche sul mercato del lavoro sulla flessibilità, abbiamo detto circolazione di persone e di beni per quanto riguarda il mercato del lavoro delle stime dei consulenti del lavoro italiani indicano che tutte quelle normative che riguardano i contratti di lavoro quindi la flessibilità, il part time, le tutele sono normate da trattative europee quindi venire meno ai trattati europei potrebbe diciamo così indebolire quella che è la tutela dei lavoratori infatti abbiamo visto un aumento della disoccupazione 0,6% è passata sopra il 5% ma con richieste di nuovi contratti di lavoro di diciamo così minor ritribuzione e più breve termine questo è un effetto che si sentirà in Europa consideriamo che l'economia inglese è la seconda economia europea e attira il maggior numero di lavoratori comunitari quasi 2 milioni dopo la Germania è il secondo paese quindi abbiamo quasi 2 milioni di lavoratori comunitari in Gran Bretagna e 60 mila italiani solo nel 2015 quindi sicuramente avremo degli effetti in Europa ma si stima anche su tutti gli altri paesi che hanno comunque interessi economici con l'Europa e con la Gran Bretagna un appello del Giappone recente di questi giorni è stato quello di non rivedere i trattati ma ovviamente sappiamo che questo è un processo imprescindibile Certo parliamo anche brevemente un accenno alle conseguenze che possono essere invece di ambito più geopolitico ad esempio sicuramente l'esito referendario della Brexit ha un po' rafforzato l'opinione pubblica euroscettica che conseguenze potrebbe avere questa? Sì, questo è quello che noi consideriamo una delle variabili o rischi diciamo geopolitici per questo autunno e per il prossimo anno che interesseranno l'Europa che ha ancora delle potenzialità diciamo di investimento in termini proprio di equiti in termini di crescita economica perché le riforme anche se molto gradualmente si stanno facendo quindi sarebbe anche un mercato appetibile in un certo senso però ci sono dei rischi anche perché c'è una politica monetaria ancora ultra espansiva da parte della Banca Centrale Europea che aiuta appunto gli investimenti naturalmente questo esito non fa altro che rafforzare anche quelli che sono appunto le correnti partiti euroscettici e molto dipenderà anche dall'esito appunto della Brexit sull'economia inglese perché se appunto si valuterà che questa Brexit non ha danneggiato così tanto l'economia inglese ecco che i partiti euroscettici non avranno che ad avvantaggiarsi da questa uscita e sappiamo che l'anno prossimo ci sono le elezioni in Francia e poi in Germania quindi l'esito anche di questa Brexit peserà proprio sui singoli paesi sull'Unione Europea che avrebbe bisogno di un'accelerazione nelle riforme quindi può da un lato diciamo così indebolire ulteriormente e dall'altro potrebbe essere anche invece motivo una spinta per maggiori riforme maggiore coesione politica fiscale eccetera economica dobbiamo aspettare ancora un po' insomma per tirare le somme è sicuramente un rischio geopolitico forte grazie Maria Grazia per essere stata con noi questa sera all'appuntamento di nuovo assieme tra due settimane anzi invito i telespettatori a utilizzare la nostra mail di Angoli per avanzare magari delle richieste di approfondimento insomma abbiamo un'esperta in studio direi che questi sono argomenti che ci interessano a tutti grazie ancora per essere stata così chiara grazie per avermi invitata grazie ci rivediamo allora noi invece ci rivediamo domani sempre alle 19 adesso vi lascio a tutte le notizie di ETG prima pagina e poi a seguire Target a domani grazie a tutti